buongiorno a tutti questo è quello che ho creato con il mio digital kit dedicato ai gatti in formato midori questo è il midori che ho realizzato e dove dentro troverete tutti gli abbellimenti e le pagine sono state inserite con l'elastico in modo che uno può toglierle e mettere delle altre ci sono tantissime pagine per scrivere e anche tante decorazioni che poi voi potete utilizzare per scrivere o comunque continuare a decorarlo mettere le foto dei vostri gatti fare la storia dei vostri gatti quella che preferite vi lascio la visione di questo midori e vi chiedo di iscrivervi se vi piace al mio canale lasciarmi un like commentare e se poi qualcuno fosse interessato ad acquistarlo una parte del ricavato andrà a sostenere un gattile di roma un saluto a tutti e buona visione ciao ciao iscriviti al nostro canale iscriviti al nostro canale iscriviti al nostro canale iscriviti al nostro canale